Joelle Estetica, centro specializzato in trattamenti avanzati viso, corpo e pilazione, mette a tua disposizione le più innovative tecnologie e cosmetici per offrirti una vasta gamma di trattamenti. Un'esperienza diversa che unisce la cura di se stessi al relax totale. Chiamaci per scoprire il regalo che abbiamo riservato per te.